L'onoreficenza viene ora consegnata a Canizzaro TV. Ritira il premio il signor Sergio Colombo e una rappresentanza dei ragazzi della scuola. L'onoreficenza civica conferita a Canizzaro TV per aver sensibilizzato i giovani all'uso della comunicazione come mezzo di divulgazione di iniziative culturali ed impatto sociale e per aver promosso il territorio della città di Rò come fatto anche questa mattina. Grazie! Ritira il canizzaro, guerra in Africa, utili? Dico qualcos'altro? Salve. Taglia uno! Nome? Alberto. Uno per volta, grazie. Guardi tu. Alberto. Alessandra. Nome? Sergio. Roberta. Cognome. Colombo. Bonini. Titolo di studio. Scuola elementare. Anch'io! È lucido il naso, è lucido. Mizzera, è lucidissima. Vabbè, è uno dei presentatori più lucidi della storia della televisione italiana. Poi dopo, arrivati all'ultima puntata, siamo arrivati addirittura in 30 a preparare le punte. Giusto. Io faccio parte di questo progetto perché mi piace ciò che viene proposto e non mi ricordo più. Abbiamo poi... Niente, buon bambu. Buongiorno. Buongiorno. Qui in mezzo. Vai, vai. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Canizzaro TV, guardala anche tu. Oggi Canizzaro si... Ecco, iniziamo. Parta? Sì. Ok. Adesso lo dobbiamo fare? Spegnere tutto, chiudere e andare? Tras... 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 Trasfusionale. Trasfusionale. Di St Profili. Semplicemente. Grazie a tutti.